Bene, si sente? Perfetto, direi che ci siamo. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati qui al Wire Next Fest a Milano. Siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook BNL People e sul sito di Wired, quindi Wired.it e stiamo trasmettendo dal BNL Square che, come sapete, è il palco del Wire Next Fest dedicato alle start-up e alle aziende innovative costruito da Wired e da BNL. Il nostro ospite è Matteo Scapin, grazie anzitutto di aver accettato il nostro invito e benvenuto a Milano. Grazie a voi. Ricominciamo questo pomeriggio, questo secondo pomeriggio del festival parlando del tema portante di questa edizione, ossia dell'identità. E in particolare affrontiamo una delle modalità in cui oggi la nostra identità si manifesta in modo innovativo che è ovviamente l'identità digitale. Come avrete visto dal programma, il titolo che abbiamo scelto per questo talk è un po' particolare Do Humans Dream of Electric Sheep per parlare appunto di identità nell'era digitale. Forse qualcuno si è accorto che è una celebre citazione leggermente modificata. Vi presento anzitutto Matteo, che è uno dei fondatori di una start-up che si chiama Copira, che si occupa di copyright e di gestione dell'identità online. Quindi unisce due aspetti relativamente nuovi, ma soprattutto di cui è nuova l'unione, ossia l'aspetto legale con l'aspetto tecnologico. Esattamente. Allora Matteo, raccontaci un po' che cosa ne pensi, qual è la tua posizione riguardo l'identità, come è evoluta, so che hai preparato un bel racconto. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Do Humans Dream of Electric Sheep. Un titolo un po' particolare, credo che molti di voi abbiano colto la citazione, ovvero Do Androids Dream of Electric Sheep, il romanzo scritto da Philip K. Dick, che è ispirato poi al film Blade Runner. Per curiosità, da alzata di mano, quanti hanno letto o visto il film tra di voi? Dai, un buon numero, molto bene, molto bene. Non farò spoiler al film o al libro, per chi non l'ha letto o visto, quindi non preoccupatevi. Dirò solamente qual è il tema, il macro tema di quest'opera. Ho deciso di partire da qui perché tra i vari temi fantascientifici e filosofici sollevati da quest'opera c'è quello della difficoltà nello discernere tra umano e androide. Cosa significa essere una macchina? Una macchina prova delle emozioni. Questa forse è la tesi più terribile sollevata dall'opera. Sono gli androidi ad assomigliare agli uomini o gli uomini ad assomigliare agli androidi? Da questa premessa ho deciso di analizzare il tema dell'identità digitale. Viviamo in un mondo sempre più digitale, dove diventa sempre più difficile vedere la linea di separazione tra il mondo offline e il mondo online, tra la vita reale e la vita digitale. Siamo in un mondo in cui per proteggerci non ha più senso, non è più praticabile costruirci delle mura attorno, isolarci. La nuova frontiera della privacy e della sicurezza è l'identità digitale. Tutti noi ogni giorno mandiamo dei messaggi, pubblichiamo qualcosa sui social network, mettiamo dei like, facciamo delle recensioni, facciamo delle transazioni economiche con la carta di credito. Tutto questo lascia una traccia digitale, lasciamo delle orme. Questa traccia rappresenta chi siamo online, la nostra identità digitale. Quando qualcuno cerca il nostro nome su Google, trova chi siamo online. Possiamo dire che quella è la nostra social identity, chi siamo online, qual è la nostra identità digitale. Facciamo un passo indietro, partiamo dall'etimologia di identità. L'identità deriva dal latino identitas, da idem medesimo. Possiamo dare una definizione da dizionario dicendo che l'identità è quell'assieme degli attributi e dei dati che vanno a descrivere in modo autentico un'entità. L'identità può declinarsi in tre entità principali. Entità come individuo, identità come entità legale, e quindi un'organizzazione, un'azienda, un'impresa. E infine identità come asset, che può essere un bene materiale o un bene immateriale, come può essere un brevetto, un software, dei dati. Oggi vorrei concentrarmi su due di questi. L'identità come individui, e parlerò di privacy, e identità come asset, e parlerò di copyright. In particolare mi focalizzerò su quali sono i rischi legati al digitale per questi aspetti e quali le possibili soluzioni. Infine concluderò con un breve manuale di sopravvivenza relativamente all'identità digitale online. Prima di partire vorrei sottoporvi a un test di Voidkamp. Non è esattamente quel test di empatia che avete letto nel romanzo o visto nel film. Vi chiederei quindi di prendere tutti quanti il vostro smartphone e aprire questa pagina web. In questo istante troverete un breve questionario sugli argomenti che tratterò. Sono sei domande, è completamente anonimo, quindi non preoccupatevi. È molto veloce, dovreste impiegare un minuto, quindi vi do 30 secondi. Via. Io intanto tengo traccia delle risposte che arrivano, giusto per vedere se arriviamo a un numero interessante. Funziona? Ti siete tutti? Vedo che le risposte iniziano ad arrivare, molto bene. Poi alla fine dell'intervento analizzeremo i risultati raccolti in tempo reale. Ok, vedo che alcuni stanno iniziando a finire. Appena ci siete magari alzate la testa così capisco quando ripartire. Grazie. Grazie. Bene, direi che possiamo proseguire. Intanto anche gli altri, chi resta può concludere. Allora, partiamo da identità come asset, quindi parliamo di copyright. Copyright nasce nel XVI secolo in Gran Bretagna con uno scopo totalmente diverso da quello attuale. Possiamo tradurre in modo abbastanza attendibile copyright con diritto d'autore e quindi la titolarità del diritto di riproduzione di un'opera dell'ingegno, sostanzialmente. Nel XVI secolo la monarchia inglese decise di prendere il controllo della diffusione delle macchine da stampa automatiche. Le macchine da stampa automatiche stavano provocando una diffusione di tomi, libri non controllate, quindi la monarchia decise di creare una corporazione di editori con lo scopo di controllo e di censura. Volevano controllare quali erano le idee e le opinioni che si diffondevano. Quindi il copyright è un diritto nato come strumento di controllo e solo negli ultimi decenni si è trasformato in quello che è un diritto degli autori. Il copyright ha subito una fortissima spallata a una delle barriere più forti con l'avvento di internet. Questa barriera era la difficoltà e i costi di riproduzione delle opere. Internet ovviamente e i computer hanno abbattuto completamente questa cosa. Questo ha portato all'emergere di un fenomeno chiamato pirateria. Ovviamente non ci riferiamo alla pirateria sul mare ma alla pirateria informatica. Queste sono alcune delle declinazioni principali della pirateria informatica. Andiamo dalla pirateria domestica ovvero la duplicazione a livello domestico di software piuttosto che altre opere protette da copyright. L'under licensing avviene prevalentemente nelle aziende dove viene installato un software su più terminali rispetto al numero di licenze che si possiedono. L'hard disk loading è la vendita di hardware o dispositivi con software protetti da copyright. La contraffazione, duplicazione e vendita. E infine il fenomeno più diffuso, più interessante e quello che andrò ad analizzare è la pirateria online. Vediamo qualche numero. Il tasso di pirateria in Italia è del 47% e quindi come vedete è maggiore della media mondiale che è del 43%. Nell'industria della cultura italiana si stima che la pirateria provochi un danno pari a 8 miliardi di euro all'anno. Un numero impressionante, forse sovrastimato, però potremmo dire attendibile. Alla fine per creare un'opera dell'ingegno servono costi, tempo e energie e procurarsi un'opera dell'ingegno senza pagare gli autori è ovviamente un danno. Chi perde, tutti sostanzialmente, perde l'industry come abbiamo appena visto, perdono gli artisti che non si vedono pagare le royalties sulle vendite e infine perdono gli utenti che si trovano o un aumento dei prezzi o ad esempio nel caso del software dei sistemi di protezione spesso invasivi. Esistono delle soluzioni? Diciamo che la legge sanziona la pirateria come reato penale, con delle sanzioni anche relativamente pesanti, fino a tre anni di reclusione, 15 mila euro di multa e non fa troppa distinzione tra quello che è l'uso personale, quindi il download personale o la diffusione. L'importante è che ci sia fine di profitto, il download personale presuppone poi un risparmio su un eventuale acquisto ed è considerato profitto, quindi anche l'uso personale può essere sanzionato. Tuttavia i tempi della burocrazia telematica sono molto lenti e questo dà una certa tranquillità ai pirati informatici, possono agire piuttosto tranquillamente in Italia, infatti vediamo un tasso di pirateria molto alto. Sul discorso tempistiche è intervenuta Agicom con un regolamento antipirateria entrato in vigore nel 2014, che fa forza proprio sulla velocità di azione. Hanno creato un sito che si chiama ddaonline.it, dritto d'autore online.it, nel quale è possibile inviare delle segnalazioni della presenza di contenuti protetti da copyright online. Dalla segnalazione, entro 35 giorni, il contenuto deve essere tolto, pena, il blocco o l'oscuramento della pagina. Apparentemente è sempre una soluzione interessante, tuttavia si è dimostrato che ci sono degli effetti negativi, è addirittura controproducente. Da una parte, quando le pagine vengono oscurate in Italia, c'è la possibilità comunque di utilizzare dei server proxy o delle VPN per mascherare il proprio indirizzo IP, navigare in anonimato e fingere di navigare da altri paesi. Quindi si riesce comunque ad accedere a quelle pagine. E addirittura andando sul sito Agicom troviamo la lista di tutte le segnalazioni, quindi abbiamo la lista della spesa di siti web illegali a cui accedere tramite VPN. Quindi è diventata addirittura una pubblicità. Dall'altra parte c'è l'effetto idra, è stato dimostrato come il mostro mitologico, il serpente marino con nove teste, quando si tagliava una testa ne crescevano due, con i siti web illegali succede la stessa cosa. Bloccato uno, o tolto uno, ne emergono non due ma di più, che vanno a recuperare la base utenti e i contenuti di quel sito. Quindi queste soluzioni repressive sono utili parzialmente da capire. Quello che è sicuro è che la pirateria è un fenomeno sociale di massa, prima di tutto, quindi bisognerebbe andare a studiarne le cause, soprattutto a livello normativo. Dei passi interessanti li sta muovendo fortunatamente la Commissione Europea, che sta rilasciando delle normative per favorire la diffusione dei servizi di streaming legale, quindi Spotify, Netflix, ad esempio rimuovendo il geoblocking. Quindi sarebbe già un passo interessante. Ok, passiamo alla seconda parte. Identità come individuo, e quindi andiamo a parlare di privacy. La privacy è stata definita alla fine del 1800 negli Stati Uniti come the right to be let alone, che significa il diritto di essere lasciati soli, non come abbandonati ma di essere lasciati in pace. Quindi il diritto di vivere privatamente. Anche la privacy negli ultimi decenni si è trasformata e da diritto della vita privata è diventato a un diritto del controllo sui propri dati personali. Tuttavia, come anticipavo prima, la velocità e l'ubiquità di internet, dei social network, ci rende praticamente impossibile controllare tutte le tracce che lasciamo online, quindi tutte le transazioni, tutti i login, tutti i check-in, tutti i post che mettiamo sui social network o su internet, creano un percorso, diffondono dei dati su di noi e costruiscono quella che è la nostra identità digitale, ed è difficile mantenere il controllo. Anche qui, questo dà origine a vari reati. Questa slide molto intimidatoria riassume un po' quelli che sono i principali reati che avvengono quotidianamente sui social network, ad esempio. Questi sono i più diffusi, ne troviamo di tutti i tipi. Il reato più diffuso in assoluto è il furto d'identità. Da 2013 ad oggi si stimano più di 7 miliardi di identità rubate, quindi un numero veramente elevato. Il furto d'identità rappresenta il 64% dei reati sulla privacy. E' interessante, un po' triste vorrei dire, notare che il 63% dei furti d'identità è dovuto a password deboli o password standard, quindi non attacchi hacker di chissà chi, ma semplicemente una password 1234 o cosa del genere, o nome più anno di nascita. Altri dati ancora più tristi, secondo me, sono i tassi di apertura e i tassi di click sulle mail di phishing. Abbiamo un terzo delle mail di phishing che vengono aperte, e un 12% sulle mail di phishing, un 12% delle persone va a farci click sul link o sugli allegati, quindi installando chissà quali malware. Quindi mi verrebbe da dire che manca anche un po' di formazione, un po' di consapevolezza. A livello normativo, anzi è entrata in vigore l'anno scorso, verrà applicata da maggio 2018 la nuova normativa sulla data protection della Commissione europea. sarà una normativa potenzialmente rivoluzionaria, che va a normare come vanno tutelati, protetti e tracciati i dati e i consensi degli utenti da parte delle aziende e delle organizzazioni. Quindi ogni volta che vi iscrivete a un sito e rilasciate i vostri dati, quel sito o quell'organizzazione dovrà avere particolare premura di vostri dati personali. Pena delle sanzioni enormi, si parla di sanzioni fino al valore maggiore tra 20 milioni di euro o il 4% del fatturato globale dell'anno precedente, quindi numeri mastodontici. D'altronde molte aziende già hanno capito che la propria base dati dei clienti è un asset di enorme valore. Quindi queste aziende che hanno questa consapevolezza già utilizzano strumenti di protezione. Le altre saranno obbligate a farlo e sicuramente avrà un impatto positivo. Ok, arriviamo all'ultima parte e poi andiamo a vedere i risultati del sondaggio. Alcuni suggerimenti veloci, un piccolo manualetto di sopravvivenza a parole chiave per la propria identità digitale sul web. Allora, possiamo dire che la nostra identità digitale è una sorta di brand, potremmo immaginarla come un'azienda. Quindi se noi fossimo un brand, se fossimo un'azienda, quali sono i nostri valori chiave? Quali sono le cose importanti che vogliamo pubblicizzare all'esterno? Quindi cerchiamo di trovarli, evidenziarli e mettere in mostra quelli. L'importante è essere autentici. Se la linea di separazione tra mondo offline e mondo online sta scomparendo e la vita digitale e la vita reale sono un elemento unico, sono parte integrante della nostra vita, è importante essere autentici. D'accordo con quello che dicevo prima, di fare un po' di marketing, ma non solo quello. Quindi cerchiamo di essere autentici sul web. Anche se è difficile mantenere il controllo, stiamo attenti a quello che pubblichiamo. Prestiamo attenzione ai dati sensibili che mettiamo su internet, soprattutto chi può avere visibilità su quei dati. Andiamo a vederci quali sono le privacy, le privacy policy dei siti a cui ci iscriviamo e controlliamo quali sono i permessi che diamo a quei servizi. Soprattutto, sembra banale, utilizziamo password un po' più sicure, possibilmente generate casualmente, alfa numeriche, con caratteri speciali, utilizziamo password manager e possibilmente utilizziamo l'autenticazione a due fattori. Tutti abbiamo sempre uno smartphone in tasca, quindi direi che è una cosa che si può benissimo fare. Sicuramente ridurremo molto il tasso di furto d'identità. Proteggiamoci. Non andiamo a cliccare su qualunque cosa che troviamo pubblicata sul web o che ci arriva per mail. Teniamo aggiornati i nostri sistemi operativi, tutti i software che abbiamo installati. Utilizziamo i servizi che i siti stessi ci mettono a disposizione per inviare notifiche di rimozione. Tutti i social network mettono a disposizione dei form per l'invio di diffide, la rimozione di questi contenuti che troviamo diffamatori, illeciti o che commettono violazioni di qualunque tipo. Quindi utilizziamoli. Infine, questo più non riguarda tanto il proteggersi, ma il rendere il web un luogo più bello. Evitiamo di pubblicare cose che non vorremmo che nostra nonna o la polizia vedessero. Stiamo attenti a tutto quello che pubblichiamo, ma soprattutto quando decidiamo di pubblicare qualcosa su un social network, cerchiamo di offrire alle persone contenuti interessanti e soprattutto di regalare emozioni. Ok, io ho finito. Direi di andare ad analizzare le risposte. Eccoli qui, vediamo se sono aggiornate. Credo non riuscirete a leggere praticamente nulla, quindi ve le leggo io. Allora, vediamo. Quanti di voi hanno scaricato almeno una volta contenuti protetti da copyright presenti sul web? Abbiamo un 88%. E non riesco nemmeno a vedere la percentuale. Ah, un 9,4% preferisce non rispondere e chi non ha mai scaricato nulla non si legge la percentuale. se volete fare la differenza, fatela pure. Viva la sincerità. Poi, i motivi per i quali la pirateria online è così diffusa. Abbiamo al primo posto facilità e comodità, con un quasi 70%. Seguito poi da i prodotti legali costano troppo. E questo è interessante. A seguire abbiamo non si rischia nulla e infine la mancata distribuzione di prodotti legali. Ok, molto interessante. Poi, vediamo i paesi con il più alto tasso di pirateria. Siete negativissimi verso l'Italia. L'Italia è il primo posto. Non è vero, fortunatamente. Anche se il tasso di pirateria effettivamente è sopra la media mondiale, ci sono altri paesi europei con tassi molto più alti. In cima alla classifica mondiale c'è la Lettonia. Il motivo è molto semplice. La Lettonia ha un reddito mensile medio, praticamente metà rispetto a quello europeo, del resto dell'Unione Europea. Mentre il costo dei contenuti digitali è identico al resto d'Europa. Quindi per loro è praticamente impossibile acquistare un videogame o un servizio online, o un software. Inoltre la legislazione è molto molto debole su questo lato. Ad esempio la Germania, vedo che qualcuno ha votato Germania, la Germania è tra gli ultimi paesi nella classifica mondiale. Ha un tasso di pirateria bassissimo perché in Germania hanno un'attività repressiva veramente aggressiva che porta alla reclusione anche del privato che decide di scaricare un singolo film a caso di vedersi qualcosa in streaming. Vediamo poi l'impatto di social media sulla società. Adesso questo grafico purtroppo ha l'asse X sballato, quindi non rappresenta la realtà, però vediamo che la colonna 3 e la colonna 4 sono le più alte, quindi diciamo un impatto per lo più positivo. Poi il cybercrime più diffuso abbiamo al primo posto diffamazione, secondo posto furto di identità e terzo cyberbullismo, seguito poi da stalking e pochissimo revenge porn, pedopornografia. Vabbè, più o meno corretto. Furto di identità va per la maggiore, anche da noi in Italia, seguito correttamente da diffamazione e cyberbullismo, molestie in generale. Poi l'ultimo, quanto sareste disposti a lasciare la vostra privacy per la sicurezza, e qua vediamo una sorta di gaussiana spostata più verso il preferisco tenermi la mia privacy. Non del tutto però. Ok. Io con questo ho finito e vi ringrazio. Grazie Matteo. Ora intanto abbiamo imparato che un buon 88% di noi dal punto di vista copyright è meglio se non si sposta in Germania perché non è il paese giusto per noi. Allora, grazie per tutto ciò che ci hai raccontato. cerchiamo, nei pochi minuti che ci rimangono, di entrare un po' più nel merito della tua attività. Tu sei uno dei fondatori della startup Copira. Ci racconti un po' che cos'è questa startup e che cosa fa, nel senso, quali sono i bisogni a cui rispondete. Ok. Copira intanto deriva dall'esperanto copyrighto, che significa copyright. quindi è una una, come si chiama? Non mi ricordo il termine. Una troncatura? Una troncatura, perfetto. Della parola inesperanto. Noi siamo una startup vicentina con sede operativa a Bologna e ci occupiamo della protezione della proprietà intellettuale e della privacy sul web con un'ottica etica. Adottiamo anche noi tali volte l'ottica repressiva per volontà dei nostri clienti solo che è un'ottica repressiva un po' particolare nel senso che a livello legale la giurisprudenza tende ad andare ad attaccare quei soggetti in grado di dare dei risarcimenti. Quindi l'ottica repressiva in Italia è vista solamente come fonte di guadagno per fare una causa legale e ottenere un risarcimento interessante. Quindi non ho mai visto nella mia carriera un caso di repressione verso il singolo utente. In Italia praticamente non esiste. Copira è nata da una chiacchierata tra coinquilini universitari a Bologna uno dei fondatori Tommaso insieme a un altro dei soci Pier Raffaele uno studiava informatica giuridica l'altro giurisprudenza si stavano interrogando davanti a una birra su quale fosse l'intersezione tra l'informatica e la giurisprudenza e hanno trovato questo punto di contatto. Gli studi legali i professionisti legali in generale non hanno spesso la formazione necessaria per andare ad affrontare le sfide che mette loro di fronte il mondo digitale. Quindi tutti i reati che vengono commessi online vanno affrontati secondo una certa metodologia che spesso la giurisprudenza non va a coprire. L'informatica e la tecnologia è molto più veloce rispetto alla giurisprudenza. Quindi ci siamo messi a sviluppare dei software as a service che vengono forniti come consulenza o come software puro agli studi legali o addirittura agli autori indipendenti che decidono di tutelarsi la propria opera. Il nostro software funziona in tre macro funzionalità detection forensics takedown detection è un motore di ricerca che va per parole chiave una sorta di google va a individuare dove i vostri contenuti digitali quindi le vostre opere o addirittura il vostro nome e cognome sono diffusi nel web una volta individuate queste occorrenze un motore di machine learning quindi di intelligenza artificiale va a fare una validazione e va a trovare quali sono le occorrenze illecite sull'opera che avete ricercato a quel punto lì il cliente può decidere se adottare un'ottica repressiva e quindi fare del takedown con l'invio automatico di notifiche di rimozione ai provider o procedere in modi alternativi uno dei modi alternativi è forensics che è l'acquisizione della prova digitale con metodologia forense cosa significa in parole povere significa andare a cristallizzare congelare la pagina web rendendola una prova legale a tutti gli effetti producibile in giudizio e in nessun modo ripudiabile questa è una funzionalità unica che solitamente viene fatta da alcune figure che si chiamano professionisti forensi noi abbiamo sviluppato un modo completamente automatico per realizzare questa cosa e voi da quanto siete in attività? allora Copira fonda le sue radici dieci anni fa 2007 e in questi dieci anni come siete cresciuti nel senso siete partiti in tre mi raccontavi prima esatto prima allora dicevo nel 2007 siamo partiti con una cosa un po' diversa ci occupavamo di brand reputation con una piccola web agency fondata da me Tommaso l'attuale CEO di Copira e abbiamo fatto un po' di esperienza formazione sugli aspetti professionali del business poi a un certo punto nel 2012 è iniziata a maturare quest'idea come vi dicevo prima da una chiacchierata tra coinquilini universitari e nel 2014 con l'ingresso del primo nostro investitore e il nostro primo cliente pagante abbiamo deciso di aprire la società quindi Copira ufficialmente è nata nel 2014 come SRL e come state lavorando per il futuro avete ancora ambizioni obiettivi sì assolutamente assolutamente uno dei temi più scottanti in questo momento è proprio quello della data protection come dicevo prima la nuova normativa sulla privacy che sta è già entrata in vigore e verrà applicata dal prossimo anno ok e chiuderei con un tuo parere personale sul modo in cui in Italia oggi viene gestito il copyright prima facevi tramite il sondaggio un confronto un po' tra diverse nazioni secondo te in Italia oggi come sta andando e cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione a fronte di quell'88% che abbiamo visto prima allora sicuramente i passi che sono stati fatti in Italia sono interessanti come dicevo prima la normativa Agicom ha provato a dare una risposta alle tempistiche estremamente lunghe della burocrazia telematica come abbiamo visto anche con un certo insuccesso quindi forse c'è bisogno di una formazione maggiore sia per gli utenti sia per gli enti che vanno a fare le norme per capire effettivamente qual è la causa di questo fenomeno quindi diffondere ad esempio di sondaggi come quello che ho sottoposto prima io per capire quali sono le motivazioni per il quale facciamo del download illegale forse sarebbe un punto di partenza interessante sul quale iniziare a lavorare Matteo Scapin grazie grazie a voi e noi riprendiamo qui dal BNL Square tra dieci minuti con l'intervento dell'amministratore delegato di BNL Andrea Munari insieme al direttore di Wire d'Italia Federico Ferrazza ci vediamo tra poco grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti